Giove la balena, lo possiamo definire, ed è fatto di marmo, ma il crocifisso che dà il nome a Bagatella è quello lì, lo riconosciamo che è un crocifisso simile a quello che abbiamo visto al museo, dello stesso periodo, però questo è ancora più prezioso, qualche compagno ha detto, esatto, qualche compagno...